Siamo a Piazza Poli, come si vedono dalle immagini, ancora di nuovo a Piazza Poli, stiamo riprendendo praticamente il video, motorini che stanno nella zona dove non possono stare e un'aria pedonale, tavolini fuori, stiamo riprendendo e stiamo riprendendo anche la fontana dove continua ad essere sporca all'interno, non c'è pulizia, come si può guardare l'attichezza. Carotino, voi la manda a te perché sicuramente tu provvederai a richiamare quelli che devono pulire la fontana. E come si può vedere, quel vetro che sta là in fondo è più di un mese e qua addirittura ci sta la cacca, se si vuole inquadrare là in fondo c'è la cacca. Allora, si vede anche le condizioni della fontana. Siamo a Piazza Poli, è il 17 ottobre 2011 e questo sarà segnalato anche alla protezione civile. Con questo ho finito.